Vittoria fondamentale per i Lupi nel big match contro la San Benedettese, la giocata di Persichini, esecuzione perfetta per rapidità e precisione, ha permesso al campo basso di accorciare in classifica ora il distacco proprio dai marchigiani è di due lunghezze. Ottima prova dei rosso-blu, attenti e oculati nella prima frazione, più intraprendenti nella ripresa rispetto ad una Samb arrivata a Selvapiana con l'obiettivo di portare via un punto. La caparbietà di Maldonado e compagni ha premiato nel finale. Persichini si è presentato ai suoi nuovi tifosi con un gol da ricordare dinanzi ad una platea di circa 4.400 spettatori. Domenica da incorniciare, gioia grande per la piazza e la squadra per la prima affermazione stagionale contro una big del torneo. La strada è lunga, la San Benedettese, sconfitta per la prima volta in stagione, ha comunque dato l'impressione di essere la seria candidata alla vittoria del Girone F. Il Campobasso è la prima antagonista seguita dalle Abruzzesi, Avezzano, Chieti e L'Aquila. Non c'è tempo per festeggiare. Il calendario da qui alla fine del 2023 è davvero complesso. Inoltre domani pomeriggio i Lupi saranno di nuovo in campo per la gara degli ottavi di finale di Coppa Italia. Trasferta ad Imola contro la squadra locale che milita nel Girone D. L'Imolese occupa il sesto posto con un distacco di 5 punti dalla capolista Ravenna. Mister Pergolizzi dovrà ruotare qualche elemento per recuperare dalle fatiche di Domenica e gestire le forze in vista della difficilissima trasferta contro il notaresco prevista tra quattro giorni. Capitolo mercato non sono concluse le operazioni in entrata. La vittoria contro la Samba ha dato ulteriore linfa alla società pronta ad intervenire per rafforzare la Rosa. Nel mirino un altro attaccante potrebbe essere Federico Cardella, giocatore con un lungo trascorso nel Girone F con le maglie di Pineto e San Benedettese. Ed un fuori quota, magari un terzino di sinistra per garantire maggiori soluzioni a Pergolizzi. Vittoria fondamentale per il Termoli, giallorossi corsari a Monterotondo con il finale di 1-2. Hernandez ed Esposito, i marcatori di una sfida ben giocata dalla squadra di Carnevale che torna al successo dopo quasi due mesi di astinenza. In questa occasione la squadra ha saputo concretizzare le occasioni create, una condizione che aveva penalizzato eccessivamente il Termoli nella prima fase di campionato. Ora la classifica è più corta, ben sette squadre sono raccolte in un punto con una leggera spaccatura che si è creata con il gruppo di centro classifica. In questo calderone c'è anche il Vasto Girardi, sconfitto di misura all'Aquila dopo quattro risultati utili consecutivi. Gli alto molisani hanno dimostrato di essere vivi ed in forma. archiviata la battuta d'arresto allo stadio Gran Sasso, le attenzioni sono tutte rivolte al recupero in programma domani pomeriggio al Ditella contro l'Atletico Ascoli. Uno scontro diretto tra due squadre divise da un solo punto in classifica generale. Infine partita da incubo per il Matese. Gli uomini di Urbano avanti 3-0 dopo appena 23 minuti di gioco hanno subito la rimonta del Riccione capace di impattare sul 3-3 al minuto numero 43 del secondo tempo con Silla. Un'occasione gettata alle ortiche dalla squadra di Piedimonte Matese che deve rimandare il ritorno al successo che manca dalla sesta giornata. Infine chiosa sul torneo. Nella riunione delle società partecipanti al campionato di Serie D 2023-2024 è emerso un cambiamento epocale. Per la prima volta nella storia della Serie D il numero degli under obbligatori da schierare in campo passa da 4 a 3 per le prossime due stagioni 24-25 e 25-26. Una decisione presa in condivisione con le società a seguito del cambiamento della norma sul vincolo e delle variazioni regolamentari dei campionati giovanili professionistici. Una scelta saggia e se vogliamo anche tardiva aggiungiamo noi nell'ottica di un cambiamento necessario nel quadro globale del calcio italiano di oggi.